In diretta buongiorno con l'approfondimento con la CGL, oggi il tema è l'attività dello sportello sociale della SPI di Treviso. Ringrazio per essere qui, presento i miei ospiti Paolo Poletto, SPI Treviso, buongiorno, e Valentina Durante, direttrice Inca di Treviso. Buongiorno. Parto con lei Paolo, ci diamo del tu. Meglio. Parto con te Paolo, che cos'è lo sportello sociale? Innanzitutto cerchiamo di spiegare ai telespettatori a casa e da dove ha origine anche la necessità di creare uno sportello simile, che cosa significa? Se provvedete anche a mettere in onda la presentazione. Con il file 1, esatto. Esatto. Io intanto colgo l'occasione per dirvi che lo sportello sociale, chiaramente, è stata un'azione che ha voluto la CGL, ancora nel lontano 2022-2021 periodo Covid, nel quale ha voluto fare un osservatorio di bisogni sociali, cioè capire. Capire cosa? Capire cosa cerca l'utenza nelle camere del lavoro della CGL. Per cui abbiamo fatto delle indagini, abbiamo sentito che bisogno potevano essere, abbiamo mappato una centinaia di bisogni sociali, dei quali chiaramente ne abbiamo fatto uno studio per capire come poter aiutare le persone, come riportare al centro la persona che è fragile, che non sa di poter avere oggi dei benefici, dei bonus, dei contributi, delle agevolazioni, cioè tutti i diritti inespressi che purtroppo nessun attore sociale dà comunicazione. Per cui il tentativo è stato fatto proprio di riuscire, in base a questo osservatorio, creare uno sportello flessibile, dinamico, rivolto a tutti, iscritti e non, per cercare chiaramente di portare quello che può essere una dignità alle persone che ormai sono allo sbando, in un mondo chiaramente che adesso fa sempre più difficoltà a superare determinati problemi sociali. Proprio su questo ti interrompo un attimo Paolo, perché ricordiamo ai telespettatori da casa che per queste questioni, se hanno delle domande e delle curiosità possono contattarci in diretta, il numero lo vedete in sovraimpressione per intervenire, lo 0422, lo leggo anch'io, 1628332, per rivolgere a voi che siete esperti in questo settore, in questa attività, eventuali delucidazioni o comunque curiosità. Continuiamo, grazie. Sì, sulla presentazione, sulla seconda pagina. Quindi andiamo al file 2. Sì, al file 2. Che diamo nello specifico appunto in quello che esercita. Così vediamo un po' il percorso. Che cosa consiste, insomma, questo sportello? Perfetto, eccolo qua. Allora, rimette al centro, come vi ho detto, la persona nella sua dignità e i suoi diritti. Si dedica all'ascolto e alla presa in carico. Risponde al bisogno dei più fragili, orientandoli nelle scelte. Spiego solo banalmente questo. Cioè, quello che abbiamo trovato in questa realtà di oggi, proprio è la difficoltà che le persone non sanno chiaramente che possono avere degli aiuti sociali. Che non c'è nessun ente pubblico, nessun attore sociale, che li aiuta a potersi contattare qualche associazione per avere un diritto riconosciuto. Per cui, se va avanti, risponde al bisogno dei più fragili. Andiamo al file 3. No, no, la pagina successiva. Sono 10 diapositive. Perfetto, allora proviamo. Eccoci qua. Un po' più avanti. No, credo che sia solo quello, sai Paolo. Ah, è solo quello? Basta. Allora, ritorniamo a quello. Che cosa fa lo sportello? Allora, chiaramente, lo vedo io qua, riconosce il problema, cerca di distinguere le necessità che le persone chiedono, cerca delle soluzioni, orienta nelle scelte, sa accogliere, sa ascoltare, accompagna nel percorso e verifica le risposte. Cioè, è la parte più importante, perché le persone che arrivano spesso vengono dentro con la loro dignità, con il loro orgoglio e non sanno come chiedere aiuto. Per cui, noi operatori abbiamo fatto nel periodo precedente all'apertura una formazione tramite un psicologo, proprio per cercare di avere delle informazioni utili a connettersi con le persone in difficoltà. Ma, appunto, in che difficoltà, Paolo? Le difficoltà sono che vengono a chiedere chiaramente una serie di difficoltà. Inizialmente abbiamo trovato solo pensionati, poi sono venuti le famiglie, poi sono venuti i giovani, poi sono venuti dei ragazzi, tutte con motivazioni diverse, tutte legate a una fragilità che regna ovunque e non sanno da che parte andare, per chiedere un aiuto, per chiedere un sostegno a quello che può essere la loro autonomia, la loro libertà di essere una persona riconosciuta. Quindi, anche e soprattutto aiuti, magari dal punto di vista economico, finanziario, psicologico, che cosa consiste? Tutto, cioè, in parole povere, lo sportello sociale che abbiamo creato, cos'è che ha fatto? Ha cercato di mappare tutti quei bisogni che ci sono e tutte quelle bonus, agevolazioni e benefici che si può avere. Come? Allora, l'abbiamo suddiviso tra la persona, chiaramente, che ha problemi nella famiglia, la persona che ha problemi nella disabilità, problemi di domiciliarità e non autosufficienza. Per cui, cosa è successo? Che ci siamo trovati delle persone che entravano, cominciavano a non essere più autosufficienti e chiedevano che percorso devo fare per poter avere un aiuto. Ecco che noi abbiamo cercato di spiegare, chiaramente, qual è il percorso che sa da fare nei confronti del medico di famiglia, verso l'assistente sociale, verso i servizi sociosanitari dell'ASL e spiegandogli, chiaramente, il percorso che queste persone devono fare in base al riconoscimento della loro criticità. Porte aperte, quindi, a tutte le difficoltà e poi da lì voi date dei suggerimenti su come muoversi, giusto? Esatto, esatto. E ricordiamo che sono sportelli aperti in tante sedi della CGL, raccontiamo. Allora, l'organizzazione è questa. Siamo partiti nel 2022 nella Camera del Lavoro di Treviso. Poi adesso siamo arrivati in tutte le Camere del Lavoro principali, che sono 12, per cui Conegliano, Montebelluna, Pieve di Soligo, Castelfranco, Montebelluna, Mota di Livenza. Non vorrei dimenticare, non vorrei dimenticare, ci sono dappertutto. Per cui siamo partiti dal 2023 anche con queste Camere del Lavoro. Lo sportello sociale per lo più ha due persone operatori per ogni Camera del Lavoro. E cerchiamo, abbiamo un'agenda di appuntamenti, abbiamo comunicato chiaramente tramite assemblee alle persone che c'è questa possibilità di poter avere un riscontro in base alle problematiche che loro ci presentano. E le problematiche quali possono essere? Noi abbiamo cercato di mappare tutti i servizi che le persone possono avere in caso di non autosufficienza. Per cui cerchiamo di indicare che ci sono dei percorsi da fare al fine di poterli condurre a determinati benefici che possono avere. sia legati alla non autosufficienza, sia legati a quando la non autosufficienza cessa e diventa chiaramente un ricovero presso i vari centri di servizio. E qui chiaramente ci sono tutto l'elenco che possiamo dare agli utenti di dire qual è il passaggio, come devono fare, qual è il modulo da compilare, e glielo compiliamo noi, qual è il percorso da poter individuare per poter avere l'accesso a questi servizi, che sono tanti. Poi chiaramente cos'è che abbiamo fatto? La parte più importante è quella di chiaramente l'elenco dei bonus. Abbiamo cercato di evidenziare quali sono tutti i bonus a cui la persona, persona famiglia, persona casa, persona lavoro, persona reddito, persona disabile, possono accedere. Come? Attraverso l'ISEE, attraverso la domanda di invalidità, della percentuale di invalidità, attraverso il reddito e attraverso altri indicatori che ci permettono di capire se la persona può accedere a determinati bonus. Ricordiamo infatti che come accennava lei all'inizio di trasmissione, tutti questi servizi che voi state dando e queste informazioni che lei ci sta dicendo sono perché moltissime persone non sono a conoscenza di quello che potrebbero avere. Cioè questi sono tutti quanti diritti inespressi, cioè le persone non sanno dove andare. Spesso ci troviamo agli sportelli persone con qualsiasi tipo di problema. Adesso abbiamo un'esplosione di giovani che vengono con problemi di depressione. Il bonus psicologico dell'INPS è cessato, per cui diamo le informazioni giuste per poter entrare in contatto con dei servizi che non conoscono e che la gente non conosce, messi in piedi da regione, dagli ambiti territoriali e sociali, dai comuni. Per cui diamo queste informazioni al punto di poter aiutare le persone in tutte le problematiche che portano a una fragilità della persona stessa. Quindi ci diceva, ci dava un po' l'agevolazione ISEE, ci dava un po' di indicazioni, continuiamo con l'elenco magari. Sì, guardate, ce ne sono tante. Come informativa che viene data a... Esatto, poi chiaramente allo sportello se venite a trovarci attraverso gli strumenti di appuntamento possiamo capire, vedere meglio e aiutare persona per persona in base alla criticità che manifesta. Io adesso vi faccio solo una carellata. Sì, facciamo magari vedere, visto che ha il volantino, lo facciamo, lo inquadriamo mentre lei legge. Eccoci qua. Grazie mille. Chiedo alla regia se riesce a farmi una stretta in primo piano sul volantino che immagino si trovi abbastanza ovunque. Da per tutto, in tutte le camere del lavoro e non solo anche. Ecco, naturalmente queste sono le agevolazioni dedicate alla famiglia. L'assegno di maternità per comune e subito qui mettiamo l'ISEE. Qual è l'ISEE al quale chiaramente la persona può accedere? 20.221. Bonus agilonido, gratuito dal secondo figlio. Io adesso faccio una carellata chiaramente per i problemi di tempo. Agevolazioni tarifarie per la famiglia, bonus figli disabili, bonus reddito di infanzia, sempre legato al reddito. Carta risparmio spesa, carta dedicata a te, quella che adesso hanno dato di 500 Euro a delle persone chiaramente molto in difficoltà. Il reddito alimentare, la carta di cultura famiglie svantaggiate. Vado su problemi scottanti, riduzione di tasse scolastiche universitarie, bonus trasporti, bonus affitto per chi è in difficoltà. Si può chiedere al comune chiaramente un contributo per l'affitto. Contributo sfratto per morosità, bonus sociale elettrico per l'ISEE basso, per il disagio fisico, per chi addirittura ha riscaldamento centralizzato. Abbiamo scoperto che c'è anche il bonus acqua per tutti, per cui anche il bonus acqua in tutti i 94 comuni della provincia di Treviso. Si può accedere al gestore e chiedere in base all'ISEE sotto i 9.530 Euro lo sconto chiaramente sulla fatturazione. Bonus benzina, bonus psicologo che purtroppo è terminato. E' terminato e ricordo che ci sono 400.000 domande che sono in attesa di avere chiaramente una possibilità di ripresa. Ricordiamo anche però che negli ultimi settimane è stata approvata un'ulteriore aggiunta di 2 milioni di euro. Magari c'è speranza che questo possa essere ripreso. Esatto. Poi c'è l'esenzione del canone della RAI, l'esenzione del ticket sanitario, addirittura il bonus conto corrente. Abbiamo trovato persone extra UE che non avevano la possibilità di avere un conto corrente per un contributo che il comune o l'Inps o qualsiasi ente poteva darglielo. E abbiamo comunicato che con l'ISEE sotto gli 11.000 Euro si può aprire un conto corrente gratuito in determinate banche. Per cui tutte queste informazioni legate alla famiglia, ma poi anche legate al lavoro, tutte le deduzioni che ci sono, e naturalmente qui sempre in sinergia col patronato, che in meglio di loro i notai di questa cosa, ma almeno come prima informazione, perché noi cerchiamo di orientare la persona al fine di arrivare negli servizi giusti. Il reddito di libertà per le donne che hanno avuto violenza, 400 Euro al mese, ecco poi il procedimento su come averli. L'assegno di inclusione, tantissimo richiesto, ex reddito di cittadinanza, supporto, formazione e lavoro, e poi i vari ammortizzatori sociali chiaramente. Abbiamo perfino trovato dei bonus per assunzione lavoratori autistici. Ci sono 120 partner che assumono dei ragazzi autistici al fine di poter dare chiaramente un aiuto. Poi ci sono tutte le agevolazioni dedicate alla casa, tutti i vari bonus, il CAF nostro ci insegna e ci dà le informazioni corrette. Concludo questa prima parte con le agevolazioni dedicate agli invalidi. Long car premium e long term car che sono contributi dati ai disabili ex dipendenti pubblici mai iscritti a un fondo crediti. La disability card, altro strumento importante per il disabile, domanda all'Inps per poter avere dei benefici. I servizi di caregiver, il problema è chiaramente questo, il primo nella lista, cioè è il problema più richiesto. L'assistenza quindi alle persone che sono in difficoltà, abilità, anziani. Esatto, sia questo è quello più richiesto proprio a persone che in famiglia rinunciano a lavorare per chiaramente poter assistere un proprio caro che è disabile. Vale sia chiaramente per un lavoratore sia anche per un nonno. L'impegnativa di cura domiciliare e tutte le agevolazioni fiscali per l'agenzia delle entrate. Come è organizzato quindi questo sportello? Passiamo a parlare dell'organizzazione. Allora l'organizzazione qui a Treviso siamo in quattro persone, diamo la disponibilità di martedì, mercoledì e giovedì come accesso, c'è un'agenda, riceviamo la mattina, al pomeriggio e di questi tre giorni, dalle 9 alle 12, chiaramente dalle 15 alle 18, martedì e giovedì e mercoledì mattina dalle 9 alle 12. Per cui qui riusciamo a ricevere delle persone su una stanza con la privacy, con tutto quello che può essere anche l'aiuto psicologico per connettersi con le persone che continuano ad arrivare in grande numero. Abbiamo l'agenda, chiaramente l'accoglienza che fissa gli appuntamenti e riusciamo un po' a gestire tutte queste informazioni. Vale anche nelle altre cambre del lavoro che stanno partendo in sordina ma stanno avendo molti casi. Per cui il tantam sociale chiaramente è quello che aiuta ad arrivare a queste porte e noi a cercare di dare risposte corrette, servizi e se non lo sappiamo abbiamo dei contatti per fare rete con i comuni e con la regione, eventualmente anche con l'ASL, in modo di completare quello che può essere la fase conclusiva della pratica. Parliamo Valentina, passo a te, della sinergia che c'è tra il patronato Inca di cui tu sei direttrice e lo sportello sociale. Come si consolida questo legame? Esatto, è proprio un legame che è iniziato all'interno delle nostre sedi, della Camera del Lavoro di Treviso, della CGL di Treviso e all'interno delle quali trovate appunto i nostri servizi, quindi il servizio del patronato Inca e il servizio dello sportello sociale nato appunto come ricordava Paolo da due anni, insomma nel 2022. È una sinergia, è un rapporto che si consolida e che dovrà consolidarsi sempre più, proprio perché l'obiettivo, la finalità di tutti noi è sicuramente fare rete, creare sinergia, perché come diceva e ricordava appunto il collega prima, dobbiamo rimettere al centro quella che è la persona, la persona con le difficoltà, con le fragilità e la persona appunto che spesso non si sa orientare all'interno della nostra società rispetto a quelli che possono essere la tutela e i bisogni e i diritti a cui appunto può chiedere e può proporre delle domande all'Inps per vedersi riconosciuto dei diritti, delle tutele, degli strumenti, dei benefici anche economici. Il rapporto, questa sinergia tra sportello sociale e patronato Inca si consolida nella misura in cui il patronato Inca è questo soggetto intermediario tra quello che è il cittadino, la persona, le famiglie e gli istituti previdenziali, nella maggior parte dei casi appunto per quanto riguarda le particolarità quindi i soggetti che riusciamo ad intercettare attraverso lo sportello sociale ci si interfaccia con l'Inps, quindi con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. In che maniera? Il patronato Inca entra in gioco, quindi entra nel suo ruolo nel momento in cui appunto c'è la necessità di presentare come dicevo prima delle richieste e delle domande all'Inps. Questo perché? Perché ci si può molto spesso insomma, lo ricordava tra i bonus, tra le domande di assistenza, di previdenza, l'invalidità civile piuttosto che altre situazioni particolari, appresentando un certo tipo di pratica, una certa domanda appunto all'Inps, il soggetto, la persona, le famiglie stesse possono aver diritto a percepire delle prestazioni assistenziali, dei bonus, avere dei riconoscimenti. Entriamo nello specifico tra pochissimo in questo dettaglio perché abbiamo una telefonata. Saluto e buongiorno, con chi parliamo? Sono Marco Ramogliano. Buongiorno Marco, qual è la sua domanda? Siamo qui. La mia domanda è, io sono invadido e civile, però ho avuto tanti problemi per avere la disabilità, che io non ho ancora ricevuto, perché dall'Inps di Strediso mi mandano all'AMIC, all'AMIC mi fanno le carte e sono passato qua su un anno e mezzo e ancora mi devono dare la stessa della disabilità. Cosa devo fare per ottenerla? Perché nessuno mi ha aiutato. Possiamo provare a rispondere, Valentina. Certo, allora Marco, grazie della domanda e della telefonata perché questo ci aiuta insomma anche a spiegare un po' meglio quella che effettivamente è l'attività che ci vede impegnati quotidianamente all'interno delle nostre sedi della CGL di Treviso. Se non ricordo male, appunto il telespettatore diceva che era probabilmente di Mogliano e quindi appunto ricordo che eventualmente può recarsi presso la nostra sede CGL di Mogliano per avere insomma un primo approccio. Quindi anche contattandola magari telefonicamente? Contattando telefonicamente, anzi se preferisce ed è possibile, se riesce a lasciare il proprio numero di telefono alla regia, poi saremo noi direttamente a contattarlo in maniera tale appunto da riuscire a fissare un appuntamento al telespettatore o comunque ad accordarci telefonicamente proprio per capire qual è nello specifico il problema e come riuscire a risolverlo. Allora, per quel che riguarda appunto, mi sono segnata qualche appunto, l'invalidità civile, la legge 68 e le varie associazioni che ci sono all'interno del nostro mondo, all'interno del nostro territorio, che si occupano di invalidità, di invalidi civili e di disabilità. Il servizio, la consulenza e il primo approccio legato appunto a questi problemi riusciamo a darlo anche noi con una rete qualificata di operatori che svolgono la propria professione all'interno appunto delle nostre sedie, del nostro patronato Inca in sinergia chiaramente con lo sportello sociale. Questo ci permette appunto di presentare le domande di invalidità all'Inps, ecco che prima appunto dicevo il ruolo fondamentale del patronato, quale appunto intermediario con gli istituti di previdenza e quindi nel momento in cui un soggetto vive una difficoltà appunto di una difficoltà di salute, un problema di salute, ha delle menomazioni psicofisiche, può presentare la domanda di invalidità civile all'Inps. Questo riconoscimento che può scaturire, chiaramente può sfociare in un riconoscimento anche di natura economica, ma non è detto, perché quel riconoscimento di invalidità legata a una percentuale può far accedere a determinate situazioni particolari, ad esempio di collocamento mirato, quindi legati appunto alla disabilità e alla legge 68, piuttosto che a una legge 104, quindi l'handicap riconosciuto in gravità, che può dare il diritto appunto alle persone, ai familiari che assistono e che possono assistere il familiare disabile riconosciuto con la legge 104, di assentarsi appunto dal lavoro per tre giorni per un congedo straordinario retribuito o addirittura c'è la possibilità che il lavoratore stesso possa chiedere, quindi il lavoratore riconosciuto invalido per una certa condizione particolare di salute, come ricordavo prima, possa chiedere una riduzione del proprio orario di lavoro. Rispetto invece alla disability card a cui faceva riferimento sempre la persona, insomma il telespettatore durante la telefonata, questo sicuramente è un servizio e un aiuto che possiamo offrire attraverso appunto il nostro sportello sociale, quindi veramente chiedo se Marco è ancora o se ha già lasciato insomma il numero di telefono perché saremo ben lieti di riuscire a contattarlo per vedere appunto se c'è la possibilità di sistemare insomma o comunque di riordinare questo caso. Certo, chiediamo alla regia quindi di segnare il numero che poi vi verrà dato e ringraziamo. un'altra telefonata. Buongiorno. 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 Con chi parliamo? Buongiorno. Sì, escolti qua, sto vedendo la vostra trammissione. l'avviso che non c'è, dal governo Conte non c'è più l'anice. Ok. Non c'è più l'anice. L'anice può dire questo perché c'è una signora con un maglione grigio, capito? Ok. E' stato il signor Conte a levare tutto. Ok, adesso proviamo a spiegare insomma. Allora, se non ho capito mai, insomma, la telefonata diceva che non esiste più l'anice. L'anice che cos'è? E' l'associazione nazionale mutilati invali di civili. In realtà esiste questo ufficio, è uno sportello che ancora esiste e che ancora si trova nel nostro territorio. E' uno sportello a cui fanno riferimento tantissime persone. Ma noi siamo qui appunto perché noi siamo la CGL e riusciamo appunto a dare il servizio legato agli invali di civili. Quindi riusciamo a dare tutela e assistenza rispetto a quelle che possono essere tutte le problematiche del mondo appunto della disabilità. E nel nostro territorio abbiamo la fortuna di operare all'interno delle sedi appunto le camere del lavoro della CGL di Treviso. Lo ricordava prima Paolo, insomma, siamo in 18 sedi in tutta la provincia di Treviso. Non ho capito se magari intendesse appunto che c'è una problematica sulla quale magari si può essere d'aiuto anche al telespettatore. Quindi rinnovo l'invito anche allo stesso eventualmente di lasciare il numero di telefono se lo ritiene opportuno che verrà ricontattato anche solo magari per avere un confronto, un colloquio che può arricchire tutti. Certo, visto che stavamo parlando appunto di invalidità, proviamo a spiegare, rimaniamo sul tema, che cosa deve fare la persona per presentare la domanda di invalidità civile e l'iter da seguire. Esatto, allora lo trovate poi nel file, insomma nel documento 6 che trovate in allegato. L'invalidità civile, come dicevo prima, può scaturire, può dare riconoscimento a diverse prestazioni. Che cos'è? È una domanda che la persona, il soggetto, il lavoratore può chiedere all'IMS, quindi questo riconoscimento, nel momento in cui appunto ci sono delle minorazioni, delle infermità fisiche, psichiche o sensoriali che comportano la riduzione della capacità lavorativa o delle difficoltà persistenti appunto se minori. L'invalidità civile, se riconosciuta, può dar diritto a diverse prestazioni. Quindi appunto a delle prestazioni economiche, con una percentuale di invalidità che può andare dal 74% fino al 100% con gli invalidi totali e addirittura appunto per i casi più gravi, insomma più complicati, può dar diritto all'indennità di accompagnamento. Come funziona? Qual è l'iter? Che cosa dobbiamo, qual è l'iter da seguire? Allora sicuramente dobbiamo presentarci dal nostro medico di base, nostro medico di famiglia, il quale andrà a redigere un certificato medico telematico necessario al fine di presentare proprio la domanda di invalidità civile all'IMS. Con questo certificato si presenta attraverso gli uffici appunto, gli sportelli del patronato Inca della CGL di Treviso, la domanda amministrativa, quindi la presentazione dell'istanza all'IMS e successivamente si verrà convocati dalla commissione medica ULSE e IMS, a breve appunto avremo anche l'integrazione delle due commissioni e si verrà convocati dalla commissione medica che valuterà e accerterà quella che è appunto la percentuale di invalidità rispetto al problema insomma di salute. Sentiamo, abbiamo al telefono un altro telespettatore, buongiorno. Buongiorno. Con chi parliamo? Giovanni da Maserada. Buongiorno Giovanni. Vedevo, buongiorno, vedevo di quel contributo della regione di 400 euro. Mi sono un attimo informato leggendo sui giornali e non capisco bene i tempi entro cui bisogna presentare la domanda perché mi sembrano molto stretti visto che per fare la svama abbiamo bisogno di recarci in più posti e i tempi non sono sempre molto brevi per ottenerla. Quindi volevo capire che cosa ne pensavate e poi mi pare che le risorse messe in bilancio dalla regione siano tutto sommato molto poche. Grazie a lei per la telefonata. Anticipiamo un argomento quindi che sarebbe arrivato dopo, Paolo, giusto? Raccontiamo, insomma, aiutiamo questo telespettatore. Alla signor Giovanni posso rispondere in questo modo. Il contributo di 400 euro è un contributo regionale. Andiamo al file 4, regia, intanto, grazie. Ecco, le domande devono essere fatte dal 4 ottobre, purtroppo, per cui 10 giorni fa, al 3 dicembre. Cosa succede? Danno un contributo di 400 euro al mese, chiaramente la regione Veneto, erogati in 12 mesi a favore di persone non autosufficienti, di norma superiori a 65 anni, a parziale sostegno dei costi per i servizi sia a domicilio sia a quelli, chiaramente, che sono in strutture in attesa di essere sistemati nei centri di servizio pubblici definitivi. Il contributo è erogato fino all'userimento dei fondi. Vi dico subito che i fondi sono circa, per quanto riguarda la provincia di Treviso, 10 milioni e 100 mila e interesseranno circa 2.400 persone, perché chiaramente la somma di questo importo diviso ai 400 euro porta a indicare 2.400 e qualcosa persone. Chiaramente gocce, come dice il telespettatore, di fronte alla realtà che parla di numeri ben più elevati. Infatti poi con lei faremo anche con te, ci davamo del tuo, facciamo anche un po' un escursus di come sta la provincia in questo senso. Allora, bisogna essere requisiti, residenti nel Veneto, ha già avuto la valutazione multidimensionale, per cui la scheda svama non inferiore a 70, già indico, do un'indicazione che bisogna che la persona sia veramente in difficoltà con un punteggio così alto. Spieghiamo anche magari a chi non lo sa che cos'è questa scheda. La scheda svama viene fatta tramite chiaramente, prima dal medico di famiglia, poi ci sono due modi, prima il medico di famiglia che la compila chiaramente con degli indicatori previsti nei quali è evidenziato qual è lo stato di salute della persona in base a determinati indicatori. Questo dà un punteggio ad ogni indicatore al fine di arrivare a questi numeri che possono essere 10, 20, 30 in qualità di disabilità inferiore fino ad arrivare a 70, 80. 70, 80 su una scheda svama vuol dire che la persona è abbastanza disabile, abbastanza fragile e sicuramente si parla di una disabilità al 100% se non anche con l'accompagnatoria, per cui trattasi di persone veramente in difficoltà. Devono avere l'ISEE socio-sanitario aggiornato, per cui 2024 e devono avere chiaramente un'ISEE sotto i 40 mila Euro, questi sono i requisiti ai quali si può accedere. Poi per completare chiaramente questo discorso c'è un modulo da completare, questo modulo che è stato organizzato e fatto dall'Azienda Zero della Regione Veneto è un modulo nel quale raccoglie i dati anagrafici della persona chiaramente che ha questi requisiti. Andiamo al file 5 intanto così possiamo magari vedere. Ecco qui c'è la spiegazione un po', non so se avete... Si è andata mentre raccontava i requisiti e ora andiamo invece con il file 5, eccolo qui. Ecco questo è proprio il modulo della domanda. Qui c'è il modulo della domanda chiaramente che è da compilare, sono sei pagine, non sono tanto, sono abbastanza semplici e agevoli perché chiedono i dati anagrafici, cioè primo se avete i requisiti, secondo chi è che fa la domanda, è la persona disabile o è un proprio caro o è l'amministratore di sostegno o è un parente, individua determinate categorie, nel caso sia chiaramente non la persona stessa che ha la capacità ancora di completare questa scheda, sia un amministratore di sostegno o un parente, ci vuole la delega e nell'ultima pagina, nella sesta pagina di questo modello c'è chiaramente la possibilità di allegare anche la delega della persona che andrà a preoccuparsi del proprio caro che richiederà questo contributo. Qui il percorso è semplice perché basta mettere i dati anagrafici, loro chiedono, ricordo a tutti il medico di famiglia, chi è il medico di famiglia in aggiunta e una mail, perché la mail sarà importantissima per poter dare chiaramente queste informazioni di ritorno a chi fa questa domanda. Le domande vanno presentate presso 4, almeno per la provincia di Treviso, sono 4 i settori dedicati dell'ASL che danno la possibilità di ricevere queste domande, però confermo che l'ASL non ha una competenza meritoria su dare un sì o no, loro lo faranno come front office, sarà l'azienda zero della Regione Veneto a valutare tutte le domande che arriveranno, ripeto, entro il 3 dicembre e che poi verranno etichettate, graduate e comunicate chiaramente alle persone tramite mail per chi ce l'ha e se qualche anziano, qualche persona dovesse avere la mail, non abbiamo ancora deciso, ma possiamo metterla noi la mail per fare da ponte chiaramente con la famiglia che ha magari una fragilità ulteriore fatta chiaramente da persone dove non hanno giovani o figli che possono dare una spiegazione. Questi contributi, altra nota importantissima è che chi ha già un'impegnativa di cura domiciliare di 120 Euro che è, ripeto, è un costo che dà il Comune alla famiglia in difficoltà per chiaramente le spese che può avere questa persona non autosufficiente. queste decadono nel periodo nel quale verranno dati questi 400 Euro per 12 mesi attraverso bonifici bimestrali e poi riprenderanno al termine chiaramente di quello che può essere chiaramente il contributo. Ricordo alla fine che i numeri sono pochi come sappiamo, verrà pubblicato poi tramite l'Asle, tramite l'Azienda Zero nel sito qual è la classifica per quelli che avranno diritto, per quelli che avranno diritto ma i fondi sono cessati e per quelli che invece non hanno i requisiti e sono chiaramente, non avranno assolutamente nessun compenso. Insomma, sperando di aver risposto al telespettatore, se siete d'accordo, mandiamo qualche minuto di pubblicità e poi ritorniamo sul tema tra poco. Ok. Eccoci tornati in diretta con questo spazio di approfondimento dedicato oggi all'attività dello sportello sociale dello SPI di Treviso. Paolo Poletto ci stava raccontando insomma come riuscire a fare domanda per avere il contributo regionale per i non autosufficienti? Alcune precisazioni ancora da dare su questo? Sì, specialmente al signor Giovanni, per quanto riguarda purtroppo la scheda Svama ci sono dei problemi, sono problemi, questi requisiti purtroppo sono fissi, anche se ieri ho provato a parlare con l'Azienda Zero per capire se la scheda Svama possiamo in qualche modo accelerare i tempi, perché come giustamente ha detto il telespettatore, i tempi per fare la Svama sono che medico generico, assistente sociale, distretto sanitario e per cui questo comporta una frazione di circa un mese di tempo e siccome i tempi sono ristretti, chiaramente perché bisogna completare le domande, resta entro il 3 di dicembre. Per cui chiaramente la Svama sarà quello, però credo che tutte le persone che hanno una Svama superiore a 70 ce l'abbiano, perché chiaramente è talmente grave la situazione che presumo che abbiano a casa nella documentazione la scheda Svama. Comunque ci interesseremo anche per cercare di velocizzare i tempi per quelle persone che magari non hanno questa possibilità. Chiudo con questo dicendovi che le persone sono, per quanto utenti a domicilio, 758 saranno per 400 Euro, pari a 3.638.000 e per struttura, cioè tutte quelle persone che sono in un centro di servizio in attesa di una sistemazione definitiva e che non costi alla famiglia, sono 1.353 che comportano per 406.547.000, per cui 2.200 persone, poca cosa come ha detto giustamente, per 10 milioni e mezzo di contributi. Chiaro che non bisogna lasciarli chiaramente alla Regione, aggiungo delle cose per introdurmi di nuovo a un'importante. Pochissimi comuni hanno messo l'informazione di questo bando, per cui le persone, i cittadini, ritorniamo chiaramente all'inizio, non sanno di questi bandi, per cui gioco forza, ci vorrebbe sempre il cittadino integrato, virtuale, che va a vedere di tutto per arrangiarsi, per aiutare un proprio caro che ha un problema e vi ricordo che i problemi della disabilità non è solo legata all'anziano, ma ci sono molti giovani che fanno parte di questa categoria purtroppo. Per cui anche questo, il fatto che un comune non ti aiuti è importante perché ti lascia sempre isolato, fragile e diventano chiaramente persone che diventano invisibili. Motivo per cui insomma avete anche attivato questo sportello per fare da fulcro e da punto di riferimento per chiunque abbia bisogno. Esattamente, abbiamo proprio comunicato, messo nel sito della CGL, su tutti i social, oggi, proprio oggi, abbiamo messo dei comunicati per informare la gente e dire siamo qua per potervi aiutare, per completare chiaramente la scheda e per darvi un supporto a tutte le persone che non sono in grado di farlo. Lo faremo telefonicamente magari a qualche figlio che ha la possibilità, ma ci teniamo perché è una forma di avvicinamento che la CGL ci tiene a dare e ricordo a tutti che siamo gli unici a farlo, questo sportello sia sociale che questo di avviso del contributo regionale. Ricordiamo, e leggo nei volantini, che i telespettatori e tutti possiamo trovare nei vari esercizi che gli sportelli sono attivi a Treviso, Conegliano, Oderzo, Godega di Sant'Urbano, Motta di Livenza, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Monte Belluna, Vittorio Veneto, Mogliano Veneto e Castelfranco. Abbiamo dato delle indicazioni fino ad ora, anche abbastanza tecniche, su quanto concerne eventuali bonus a cui le persone possono accedere, come chiedere l'invalidità civile, spiegare che cosa significa l'apertura di questo sportello sociale e come vi siete messi a disposizione dei cittadini. Quello che volevo chiedere in questi ultimi dieci minuti che ci rimangono, come sta la provincia di Treviso in questo senso? Qui ci sono le dolenti noti, perché si aggiunge, è chiaro che noi tentiamo di dare una mano, di dare un contributo, visto che gli attori sociali fanno un po' fatica. Stiamo tentando chiaramente di diventare un attore sociale unico, integrato, questa sarebbe la nostra idea, di parlare con gli assessori di tutti i 94 comuni, al fine di presentarsi, di lavorare insieme, anche adesso che cambieranno le cose, che ci saranno gli ambiti territoriali e sociali, che saranno in mezzo tra i comuni, l'ASL, chiaramente inserirsi e poter dialogare e fare solo il nostro ruolo, che non è quello di portare via lavoro a questi attori importantissimi, ma è quello di segnalare questa difficoltà, queste fragilità che stanno emergendo. Ci sono anziani che non si muovono da casa, anziani che sono venuti nello sportello e non sapevano come parlare, anziani che non vanno dall'assettente sociale perché si vergognano, anziani che non si curano più, che vengono senza denti, anziani ma non solo, chiaramente che hanno forme e patologie diverse e non si curano neanche più e noi dobbiamo fare qualcosa per cercare chiaramente di aiutarle queste persone e se non lo facciamo insieme è difficile riuscire ad aiutare queste persone, a dare quella dignità che aspetta una famiglia e una persona, perché vi ripeto, abbiamo trovato lavoratori che sono disabili, abbiamo trovato lavoratori che hanno genitori disabili, abbiamo trovato giovani depressi, giovani studenti universitari depressi che vengono e non sanno da che parte mamme che vengono a raccontarci di fragilità in casa, lato economico, lato psicologico, tutte bombe sociali che rischiano di far esplodere una situazione che chiaramente è molto importante. Gioco forza, ecco che dobbiamo lavorare, il nostro lancio è insieme, lo facciamo all'interno della CGL con i servizi, guai se non ci fosse il patronato Inca, il CAF e anche le categorie stesse, le categorie di lavoratori attivi che ci aiutano a trovare una soluzione, una risposta a questo. Vi do un flash sulla provincia di Treviso. Sì, andiamo quindi al file 3, chiedo alla regia gentilmente. Parliamo infatti di... Ecco, allora, questi sono chiaramente gli ultimi semestre, 444 persone sono arrivate, li abbiamo aiutate, forse voi non vedete bene a destra, ma sono tutti i servizi, le consulenze che abbiamo dato, con una heat parade purtroppo, che è quella di evidenza di grandi fragilità che vanno a occupare, come vedete il primo grafico, la famiglia che è in difficoltà, poi troviamo chiaramente la disabilità, il socio sanitario, troviamo chiaramente la previdenza, ma aggiungo che troviamo difficoltà sulle case, contributi, affitto, case ATER, lettura, bollette, aiutiamo sulle bollette, anche lì una grandissima difficoltà su questi cambiamenti nel mercato tutelato, anche qui, per cui le informazioni che arrivano allo sportello sociale sono le più varie, le più complesse, ma che manifestano sempre di più una difficoltà. Magari da casa è difficile leggere, però sono 444 le attività svolte di prestazioni, come dicevi tu Paolo, tra bonus energia, carta acquisti, estratto conto contributivo, impegnativa di cura domiciliare, fino ad arrivare addirittura al bonus energia, al collocamento, all'ISE, contributo affitti, come al canone Rai stesso, una serie di servizi che denotano più di 400 per una sola provincia, sono numeri che fanno un po' pensare, questo ci stai dicendo. Esatto, ma non solo, ma addirittura compiliamo i modelli, li trasmettiamo, cerchiamo di aiutarli su tutto e per tutto e se non riusciamo ad averli, li rinvitiamo dopo che riusciamo ad avere una risposta chiaramente più completa. Direi di raccontarvi solo questa ultima cosa, qui nel nostro prospetto, un report che purtroppo non ho potuto darvi prima, abbiamo mappato tutti i 94 comuni della provincia di Treviso e abbiamo fatto dei collegamenti multimediali perché? Per aiutare gli operatori di ogni comune a trovare nei comuni l'aggancio ai servizi sociali e l'aggancio all'home page del comune e non solo, è a tutte le associazioni che aiutano le persone fragili, che fanno volontariato e lo fanno dedicato per tematica, per lutto, per disabilità, per Alzheimer e su ogni comune basta cliccare, sul comune vedo quasi il primo che mi capita sotto, Castelfranco, vengono fuori tutti i servizi sociali che il comune di Castelfranco fa, è una lista di impegni, una carta dei servizi nella quale l'operatore sa dare all'utente che viene a Castelfranco nel senso di ricovero, di informazioni, di dove andare per avere questo. Scarichiamo la modulistica, gliela mettiamo noi e in base allo studio della pratica che l'utente ci porta a Castelfranco, ecco che lo accompagniamo anche chiaramente a quello che può essere la problematica dall'assistente sociale oppure dal sindaco o saper leggere quali sono i bandi che fa il comune per aiutare le persone, ma come fa, domanda il fragile, disabile, l'anziano e non lo sufficiente, sapere che ci sono questi contributi utili alla propria dignità di famiglia e questa informazione che abbiamo dato agli operatori sta diventando fondamentale, è la bussola nella quale noi riusciamo a studiare il caso, a capire qual è la problematica, ma dargli un conforto di dire vai dalla persona e se la persona vuole essere accompagnata lo accompagneremo, per cui ci sarà questo sforzo di farci conoscere al fine di fare rete proprio nel modo più integrale. Concludo su questo dei comuni con una carta di servizi proprio fatta da Treviso, il comune di Treviso ha fatto un volantino informativo con tutto quello che fa per il fragile, io qua è chiaro che non ve lo leggo tutto per motivi di tempo come giustamente Eddie mi dice, ma qui troviamo l'impegnativa di cura domiciliare, quanti soldi sono, a chi viene data, suddivisa per patologia, tutte le associazioni che aiutano l'invalido, l'amministratore di sostegno, cos'è, dove lo si può trovare, tra parentesi lo troviamo anche in CGL, le agevolazioni economiche, tutti i bonus sociali che fa il comune. Paolo, quello che ci stai dicendo è che comunque le amministrazioni sono al fianco dei cittadini, quello che serve è cercare di abbattere quella barriera che spesso la solitudine e una mancanza di rete sociale impedisce alle persone in difficoltà di accedere poi a questi servizi. Bravissima, hai messo il dito sul cuore del problema, questi che io leggo la gente non le sa? Siamo noi che adesso glielo comunichiamo? Oppure lo sa? Perché uno va a chiedere all'assistente sociale, ma qui c'è un elenco, gli sconti sui bus, il bonus energia, lo smaltimento rifiuti, i bonus sulla luce, i servizi che fanno al chi è a casa e che vuole rimanere a casa ma non è più autosufficiente, servizio di assistenza domiciliare, lavanderia, pasti a domicilio, infermieristica, tutto quello che può dare sempre un aiuto non solo al disabile, ma alla famiglia, al nucleo, al comune che lavora, al quartiere in cui c'è, per cui queste sono le informazioni che tutti i comuni dovrebbero avere e tutti quanti sapere che c'è la possibilità di poter fare questa integrazione e chiaramente permettere il cittadino fragile, disabile, ma anche quello che è sano ma che non sa di poter avere questi accessi, di poterlo aiutare al fine di trovare proprio il rispetto e la dignità della persona. Un minuto alla chiusura, Valentina facciamo un riepilogo di quanto abbiamo detto insomma. Sì, allora appunto a me piace definire insomma lo sportello sociale, la rete che si è creata e la sinergia che sempre più si sta creando insomma all'interno della CGL con tutti i servizi, le categorie degli attivi e all'esterno con tutti gli attori sociali insomma che troviamo nel nostro territorio è quella che si sta cercando di dar voce poi effettivamente agli invisibili, alle persone in difficoltà, alle persone fragili che non riescono ed evidentemente hanno bisogno appunto di un aiuto. Vanno accompagnati, sì, bisogna prenderli per mano, sono persone appunto da prendere per mano per accompagnarli intersecando tutte le competenze dell'ambito in cui insomma ci si adopera, ci si adopera ognuno di noi, per orientarle e per far sì appunto che ci sia un effettivo diritto e un diritto da esigere e su cui poter far fronte. Paolo siamo assolutamente in chiusura, un'informazione a voi. Volevo solo dire un'ultima cosa fondamentale per noi della CGL, io ho cercato di mettere tutti questi bisogni che dà la CGL chiaramente come integrazione, lo sportello sociale ci ha aiutato moltissimo e cosa ho notato? Che dalla nascita alla morte tutti i servizi che possono aiutare le persone, lavoro, immigrazione, immigrazione, infortuni, maledità, disabilità, disoccupazione, pensionamento, decesso ci siamo. Adesso con lo sportello sociale possiamo dare qualcosa in più sempre nel rispetto delle persone. Ecco e con questo noi chiudiamo questo spazio dedicato all'approfondimento sull'attività dello sportello sociale di SPI Treviso. Ringrazio gli ospiti Paolo Poletto della SPI CGL Treviso, Valentina Durante, direttrice Inca di Treviso. Grazie a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia, ringrazio anche alla regia Fabio Falliero e Alessandro Granziera. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti, arrivederci. Buona giornata.